Benvenuti a questo episodio di The Fine Banking. Siamo ancora in smart working, lo sapete la situazione relativa al coronavirus non è granché migliorata, anzi, e infatti anche in questo episodio vi parliamo di coronavirus, ovviamente con il punto di vista di azienda banca. Tra poco quindi dopo la sigla vi racconterò un po' di spunti interessanti sostanzialmente su tre grandi temi. Il primo tema è davvero doveroso e sono le azioni messe in campo dalle banche e dal mondo finanziario per reagire a questa emergenza. Ovviamente l'ultimo aggiornamento è alla mattina del 4 marzo, noi registriamo The Fine Banking il giorno prima della messa in onda se non ci sono interviste esterne. Il secondo tema sono invece le stime sul possibile impatto economico del coronavirus e questi dati che sono principalmente quelli di Cervid Rating Agency ci servono per capire perché sono così urgenti le misure che vengono prese in questo momento. Secondo Cervid il 10% delle aziende italiane rischia il fallimento nell'ipotesi di scenario peggiore. Un terzo tema è quello della tecnologia perché? Perché in questa crisi anche nei casi di quarantena oppure di una vita un po' più rallentata come quella che stiamo vivendo qui a Milano in piena zona gialla, beh in questa situazione di emergenza siamo in molti ad avere mantenuto una vita più o meno normale proprio grazie alla tecnologia che ci permette non solo di lavorare. Ne parliamo tra poco dopo la sigla. The Fine Banking, FinTech, pagamenti digitali, blockchain, criptovalute e la banca del futuro nel podcast ufficiale di Azienda Banca a cura di Alberto Grisoni. Bene, non devo ricordarvi io che prosegue in questi giorni e proseguirà secondo me ancora per qualche settimana l'emergenza legata al coronavirus. Torniamo alle iniziative delle banche, alcune sono legate in realtà alle mosse del governo che già il 28 febbraio scorso ha sospeso una serie di termini per versamenti e pagamenti negli 11 comuni della ormai tristemente famosa zona rossa, comprese ad esempio le bollette dell'acqua. Vediamo anche la sospensione, non so, del pagamento delle rate dei mutui residenziali per i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni. Ora, queste misure di legge sono in aggiornamento e saranno quasi sicuramente ampliate nei prossimi giorni. Qui mi sembra più interessante invece fare una sintesi di quelle che sono le iniziative in qualche modo spontanee delle banche. Nelle legge ricomunicati arrivati in redazione è evidente ad esempio che la portata all'impatto di questa epidemia è chiaramente nazionale. Le misure per la zona rossa sono comuni a tutte le banche, prevedono in genere, non so, la moratoria dei mutui residenziali per le famiglie che vivono appunto in questi 11 comuni, in genere per 3 o 6 mesi ma con la possibilità esplicita di una estensione della moratoria in base a quanto durerà effettivamente l'emergenza. Misure analoghe riguardano anche le imprese che hanno una sede legale e o operativa all'interno degli 11 comuni. Ormai quasi tutti gli istituti stanno adottando una forma di moratoria o di facilitazione anche per i comuni al di fuori della zona rossa. Perché? Perché ormai è evidente che il problema economico è e sarà nazionale. La moratoria sui mutui per famiglie e imprese è quindi prevista anche in altre zone, a patto chiaramente che il richiedente dimostri di trovarsi in difficoltà per il coronavirus. Siamo pur sempre in Italia e io temo che tra qualche mese ci troveremo a commentare ricorsi per errori di valutazione da parte delle banche, ma anche finti casi umani che in realtà nascondono tentativi di frode e chissà quali altri brutti escamotage per trarre vantaggio da questa situazione. Comunque la durata della moratoria in genere varia dai 3 ai 12 mesi in base alla banca, ma anche qui possiamo dare praticamente per certo che man mano che si inizierà a capire qualcosa della reale durata di questa crisi, i tempi di moratoria si allineeranno e si allungheranno. È molto interessante anche andare a vedere le misure a supporto delle imprese il cui business è in difficoltà a causa del coronavirus. Ne parleremo meglio di questa situazione, di questa emergenza tra qualche minuto guardando i dati di Cerve, di cui vi accennavo nel corso dell'introduzione a questo episodio. Il gruppo Cassa Centrale ad esempio ha prorogato fino a 120 giorni l'anticipo export per la merce che non viene ricevuta dall'impresa per motivi direttamente collegati al Covid-19. E sempre dal gruppo Cassa Centrale viene una misura interessante a favore delle imprese socie operanti direttamente o indirettamente nel settore turistico, linee di credito per liquidità per quelle realtà che hanno avuto un numero importante di disdette, di prenotazione o di ordini. Non a caso nel gruppo cooperativo di Cassa Centrale troviamo anche molte realtà del nord-est. Il Veneto è in zona gialla, parte anche in zona rossa e l'impatto turistico su Venezia si fa particolarmente sentire, l'abbiamo visto praticamente in tutti i telegiornali. Sempre nell'ambito vapore del credito cooperativo Veneto dall'altra capogruppo però c'è BCC di Roma che ha acquisito qualche anno fa, lo ricorderete, alcune figliali di BCC Padovana. E il 28 febbraio scorso la BCC di Roma ha varato un primo intervento per gli operatori turistici e i pubblici esercizi del Veneto. Un finanziamento per la liquidità a tasso zero per i soci e a un tasso dell'1% per i clienti ordinari. In entrambi i casi non sono previste spese. Unicredit si è mossa praticamente da subito con quello che è stato definito un pacchetto emergenza. Innanzitutto ha previsto la possibilità di chiedere la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le aziende che hanno sede operativa in sette regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lazio. Vedremo poi nelle prossime settimane se come questa mappa si estenderà sia per Unicredit sia per le altre banche. Dicevamo all'inizio del pacchetto emergenza. Unicredit insieme alla Unicredit Foundation ha donato da subito 500.000 euro al Dipartimento della Protezione Civile mentre lo scorso 2 marzo ha varato un secondo contributo di 1,5 milioni di euro. Questi soldi andranno a sostenere l'acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici per combattere il Covid-19. Continuando a guardare un po' le iniziative delle banche, ricordandovi che diamo per scontato insomma le misure di sostegno alle imprese in difficoltà, segnaliamo ad esempio che Credi Agricol permette di consegnare la richiesta di sospensione delle rate con un modulo che può essere scaricato direttamente da internet e che può essere inviato via email se la filiale di riferimento è chiusa. Quello delle misure a sostegno delle imprese colpite dalle difficoltà del momento è un tema particolarmente importante e negli scorsi giorni su aziendabanca.it abbiamo pubblicato i risultati di un'analisi di Cervet Rating Agency che non lasciano davvero spazio a dubbi sul fatto che servono e serviranno in futuro delle misure di sostegno per le imprese italiane. Cervet Rating Agency ha utilizzato un campione di 25.000 rating di nostre imprese per stimare il possibile impatto della crisi del coronavirus in base a due possibili scenari. Uno è quello meno negativo, prevede una crisi sanitaria che prosegue fino a metà anno. Parliamo di scenario internazionale, non esclusivamente italiano. Il perché è chiaro, se anche l'epidemia si risolvesse in Italia ma si spostasse in altri paesi, come probabilmente sta anche facendo, ci sarebbero comunque ripercussioni sul turismo ad esempio oppure sull'export verso quei paesi. Cervet ha elaborato anche un secondo scenario decisamente peggiore che prevede una vera e propria pandemia globale con problemi che durano fino alla fine dell'anno. Bene, in entrambi i casi ci sarebbero impatti sulle principali voci di bilancio delle nostre imprese a causa del calo congiunto sia della domanda sia della produzione. In generale le imprese sarebbero indebolite, ma è anche facile capirlo, sarebbe meno capitale circolante netto, aumenterebbero inevitabilmente quindi i debiti finanziari a breve. Per dare l'idea dell'impatto guardiamo i numeri. A oggi la probabilità media di default delle aziende campione è del 4,9%. Nello scenario soft, quello dicevamo prima in cui il coronavirus si risolve entro la fine di giugno, la media sale al 6,8% ma con punte fino al 10,6% nei settori più esposti. Quindi un'azienda su 10 ha rischio di fallimento nei settori più esposti alla crisi del coronavirus. Vedremo tra poco quali sono. Il rischio è molto maggiore però nel caso in cui l'intero 2020 fosse condizionato da questa epidemia, diventata a quel punto pandemia. La media infatti arriverebbe proprio al 10,4%, in sostanza un'azienda su 10, con punte però del 15,4% nei famosi settori più esposti alla crisi. Un dato ancora più preoccupante riguarda il sottogruppo delle imprese che già oggi non se la passano benissimo, perché nello scenario peggiore, quello appunto della pandemia per tutto il 2020, nei settori più esposti si arriva a un 26% di aziende a rischio di default. Questi settori più esposti alla crisi sono purtroppo prevedibili il turismo, i trasporti, il manifatturiero tessile e le aziende del comparto manifatturiero generale che lavorano però molto con la Cina. Ecco, su questo aspetto della Cina bisognerà vedere secondo me come la situazione cambia nel resto del mondo. Però insomma, in prima fila a correre dei rischi c'è molto made in Italy tradizionale. L'unico trend positivo ma è davvero una consolazione magrissima si registra per il settore farmaceutico, dalla produzione al commercio fino al dettaglio di medicinali, in cui è probabile in entrambi gli scenari, ma siamo veramente a ragionamenti quasi macabri, un miglioramento della marginalità e del profilo di rischio. E qualche segnale di allarme proprio relativamente all'impatto del coronavirus arriva anche dal barometro CRIF sulle richieste di mutui e prestiti degli italiani. A febbraio c'è stato infatti un cao dell'1,4% dei prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi come auto, moto, elettronica, elettrodomestici, articoli di arredamento. Insomma, la stima di CRIF è che per l'emergenza coronavirus molte famiglie abbiano posticipato gli acquisti economicamente più impegnativi. Infatti a influenzare il dato è la dinamica delle richieste nelle prime tre regioni colpite dall'emergenza. La Lombardia, che ha fatto registrare un meno 8,6% rispetto al febbraio del 2019, il Veneto con il meno 5,2% e l'Emilia-Romagna con un meno 5,9%. Siamo nella classica situazione di crisi in cui l'investitore va a cercare un bene rifugio. Infatti avrete sicuramente sentito delle buone performance dell'oro ma anche dell'inossidabile e intramontabile bitcoin. Entrambi sono cresciuti rispetto a prima dell'inizio dell'emergenza coronavirus, intendo l'inizio in Cina, non in Italia, quindi rispetto all'inizio dell'anno. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa proprio qui a Define Banking ed è giusto segnalare che in molte newsletter per investitori è tornato appunto protagonista del bitcoin che sembra non subire l'impatto del covid-19 e potrebbe addirittura beneficiare delle situazioni di difficoltà in altri mercati, pensiamo all'Argentina, continuando a presentarsi come una versione digitale dell'oro. A proposito di bitcoin c'è da dire che gli esperti si aspettano un nuovo picco di prezzo a giugno 2021 perché in quella data avverrà un halving programmato. Insomma detto in soldoni sarà più difficile estrarre bitcoin utilizzando dei computer, dei supercomputer per elaborare dei calcoli. Quando nel 2012 e nel 2016 ci sono stati degli altri halving si è visto effettivamente un aumento sensibile del prezzo del bitcoin. Anche qui vi riportiamo la previsione, poi è sempre divertente andare a rivedere a distanza di qualche mese se le previsioni sono avverate o meno. Un ultimo spunto che vi propongo riguarda quello che sta accadendo nella vita di molte persone e di chi vive in regioni toccate dall'emergenza. Il semi isolamento forzato di queste settimane di fatto è possibile anche grazie alla pervasività di molte tecnologie e di molti servizi. Chi non lavora in attività produttive o che richiedono un contatto diretto con il pubblico spesso è operativo da casa. Il computer portatile è aperto sul tavolo del salotto o della cucina, abbiamo la posta elettronica e i dati nel cloud, possiamo lavorare tranquillamente in ciabatte. Lo stiamo facendo così, in molti casi senza troppo impatto sulla produttività aziendale. Per molte aziende questo telelavoro forzato sta portando una vera e propria rivelazione. Si può fare, si può lavorare in modo diverso senza perdere troppo in produttività. Ecco perché alcune aziende guadagnano di valore. La newsletter di CB Insights del 2 marzo scorso riportava ad esempio che una start-up si chiama Zoom Video Conferencing, che si occupa, pensate un po' di videoconferenze, il nome non lo lasciava minimamente sospettare, ha visto il proprio titolo crescere del 38% in borsa per l'esattezza al Nasdaq. Io vivo a Milano, una città che viene descritta come semi vuota ma in cui in realtà si ritrovano alcuni paradossi, sabato scorso ho chiamato una decina di ristoranti di riferimento per prenotare un tavolo per cena ma erano tutti pieni. Alla fine cosa ho fatto? Ho organizzato una cena con gli amici a casa, ovviamente tutti rispettando il metro di distanza minimo e abbiamo ordinato come fanno molti sui servizi di consegna a domicilio del cibo, Deliveroo, Globo, Just Eat e così via. Questi servizi stanno permettendo a molti ristoranti di continuare a campare, a lavorare e a fatturare anche in un momento di crisi. Un altro elemento che dà bene l'idea di come si è cambiato il nostro quotidiano è la spesa online. Passato il delirio degli scaffali dei supermercati saccheggiati con quell'immagine che hanno causato un danno enorme sia all'immagine dell'Italia sia alla reputazione delle povere penne lisce, sono ancora molti i milanesi che scegliono di farsi consegnare la spesa a domicilio per evitare di farsi starnutire addosso mentre sono in fila al banco salumeria. E infatti da una chiacchierata molto informale con alcuni player del settore è emerso che nei primissimi giorni successivi all'emergenza coronavirus, quindi diciamo una decina di giorni fa perché ci ascolta giovedì 5 marzo quando uscirà questo episodio, bene nei primissimi giorni diciamo nel primo weekend di emergenza c'è stato un vero picco di transazioni presso i supermercati. Poi questo incremento, questo picco di transazioni con carta di pagamento si è spostato ovviamente nel commercio elettronico. Abituati come eravamo in fondo a essere in mezzo agli altri ma isolati mentalmente, concentrati sulla realtà del nostro telefonino, ci mancava solo l'isolamento fisico per restare connessi al mondo e al nostro lavoro proprio solo grazie al digitale e allo smartphone. Ci sentiamo giovedì prossimo, credo, sospetto, ancora in telelavoro qui a Define Banking.